C'era anche un altro modo per trovare il piano pi greco, cioè scrivere la sua equazione senza il coefficiente d, ma già imponendo il suo passaggio per il punto c. I tre coefficienti li conosciamo 5, meno 3, meno 2, sostituiamo le coordinate del punto c, 2, 2, meno 3, svolgiamo i calcoli e otteniamo direttamente l'equazione del piano da cui risulta d uguale a meno 10.